Ben tornati su Raddesign, io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing all'Istituto Italiano del Design. Oggi siamo in compagnia di Andrea Margheritelli, benvenuto. Grazie Nicola e grazie a tutti gli amici di Raddesign. Tutti occupi di ricerca e sviluppo, design e innovazione per l'Istone Giordano, in più sei anche il presidente della Fondazione Giordano. Quindi volevo chiederti di cosa si occupa questa fondazione. La Fondazione Guglielmo Giordano è un'istituzione no profit che ormai ha una lunga storia, sono quasi 20 anni, fondata nel 2000 e si intitola alla memoria di una personalità straordinaria del panorama culturale italiano, soprattutto nel mondo del legno. Guglielmo Giordano è stato un grande tecnologo, uno scienziato del legno di fama internazionale che ha legato 40 anni di attività di docenza a Firenze e univa a una profonda conoscenza della tecnologia del legno, una grande passione per il bello, per l'arte, cosa facilmente immaginabile vivendo in una città come Firenze. A lui abbiamo dedicato una fondazione che si occupa dunque di legno negli impieghi più diversi, come valorizzazione del materiale forestale, gestione forestale sostenibile, nelle manifestazioni dell'architettura, e poi dopo la fondazione si è trovata impegnata anche in eventi culturali non necessariamente uniti al materiale legno, ci hanno visto unire gli sforzi assieme con anche istituti molto prestigiosi, con l'associazione Metamorfosi, con la fondazione Casa Bonarroti, abbiamo condiviso esperienze significative nella promozione di momenti d'arte legati alle grandi talenti e grandi geni italiani del passato e in alcuni casi del presente, quindi Raffaello e Leonardo da Vinci, quest'anno ricorrono ai 500 anni e saremo protagonisti di due importanti iniziative a Torino-Venezia, e naturalmente Pinturicchio, con il quale abbiamo unito un tratto di strada significativo con un'opera di cui si è molto parlato, che è il Bambin Gesù delle Mani. La fondazione ci ha molto stimolato in termini di ricerche, ci ha portato anche ad esplorare le manifestazioni contemporanee della genialità e lì ovviamente è stato molto breve il passo per toccare anche gli ambiti dell'arte contemporanea e del design, che poi in molti casi hanno delle contiguità. Sappiamo che anche tu hai un grande amore per la cultura e l'arte in generale, hai scritto anche un libro, Tadea, la figlia segreta di Carlo V, di cosa parla questo libro? Beh, questo è stato in realtà un piccolo elemento del caso. Il caso gioca un ruolo sempre importante nelle piccole o grandi scoperte. In questo caso è una piccola scoperta di storia, ma curiosa, e la storia di una bambina è nata da una relazione non così conosciuta o soprattutto non ancora consolidata e creduta da tutti gli storici sul fatto che uno dei più grandi personalità dell'Occidente, Carlo V, l'imperatore a capo di un regno in cui non tramontava mai il sole, ebbe una relazione con una bellissima donna perugina e da questa relazione nacque una figlia. Questo avveniva nei primi anni del Cinquecento e quindi abbiamo raccontato come fondazione questa storia curiosa che è un itinerario alla scoperta di luoghi anche inaspettati della nostra Umbria. Penso parte da Perugia, con Lazzone, dove viene nascosta nell'ultimo dei posti dove ci si aspetterebbe di trovare una principessa, figlia di un così grande personalità come Carlo V. E poi Montefalco. e poi la storia pro da Roma incrocia personaggi di grande fascino e in alcuni casi anche di una personalità straordinaria come Giulio II, come i grandi artisti della Roma del Rinascimento e fatti anche che abbiamo studiato nei libri di storia, il sacco di Roma del 1527, li troviamo sullo sfondo di questa storia che ha la particolarità di avere la struttura narrativa di un romanzo, sembra questo, un romanzo storico, e in realtà è tutta assolutamente documentata a testimonianza del fatto che alle volte capita che la realtà abbia la capacità di superare in fantasia il più straordinario dei romanzi. Ma da dove c'è? C'è stato un documento in particolare che hai ritrovato e da lì ti è partita l'idea o com'è nato tutto? Sì, il filo rosso iniziale nasce qui a Perugia in archivio di Stato, poche righe di un libro di fine ottocento in cui si segnalava l'ipotesi da uno spoglio fatto a Roma di documenti che Carlo V avesse avuto una relazione con una bella donna perugina. Io trovai sorprendente questo fatto, sono appassionato di storia locale, non l'avevo mai intercettato prima e allora sono andato alla ricerca di qualche precedente, non trovandolo. Ho pensato inizialmente che fosse una fantasia, capita spesso nelle citazioni di storia locale, insomma di rendere un po' più gloriose le proprie origini per la città. E in realtà andando alla ricerca dell'altro capo del filo, risalendo, siamo arrivati a dei documenti di archivistica spagnola della metà dell'Ottocento e da lì all'archivio generale di Simancas, che è l'archivio straordinario anche da un punto di vista architettonico e proprio di collocazione, in cui sono conservati la gran parte dei documenti della corona di Castiglia in Spagna e nel maggio del 2017 ho avuto la fortuna, l'opportunità e poi anche la fortuna di visitarlo e avere la fortuna che i riferimenti archivistici che avevo in mano mi hanno condotto rapidamente alla soluzione del giallo. Quindi una cartella in cui erano contenuti, in cui sono contenuti, dei documenti inequivocabili. L'imperatore scrive alla bella pennina, Ursolina della Penna, bellissima donna perugina, scrive in francese, piccole parti in italiano, quelle in cui vuole essere assolutamente compreso e capito da lei che non parlava evidentemente in francese, e dice nostra figlia Tadea, in due distinte lettere firmate, quindi il suo autografo che toglie ogni dubbio su questa curiosa paternità che porta una principessa da Sburgo, da Austria, comunque figlia dell'imperatore del Sacro Romani, a essere stata strettamente legata alla nostra città, alla nostra regione. Poi sappiamo a che fine ha fatto questa Tadea? Beh, la parte finale di questa storia è una nota di malinconia, di tristezza, se vogliamo, ma è anche un documento di grande toccante per l'aspetto caratteriale di questa donna che 500 anni fa si esprime scrivendo al fratellastro minore con una differenza che lei è maggiore di età ma non è stata riconosciuta. Il fratellastro minore, Felipe II, è più piccolo di lei ma è il re di Spagna dopo l'abdicazione di Carlo V, quindi si rivolge a lui chiamandolo con grande reverenza sua maestà cattolica e si firma minima indegna e inutilissima serva Tadea. Beh, si rivolge al fratellastro implorando solo unica concessione, la verità. Lei dice non desidero nulla, non desidero ricchezze, onori, gloria, regni, mi accontento di mangiare erba anche ogni giorno ma una cosa desidero che prima o poi avvenga è che la verità possa emergere e gli ricorda che la verità ha una capacità di galleggiamento straordinaria anche se uno tenta di affossarla prima o poi viene a galla e glielo ricorda e desidera che questo avvenga e in realtà sono passati 400 sono voluti 494 anni 183 giorni perché questo avvenisse però effettivamente si è realizzato e è stato così un piacere per la nostra fondazione essere stato involontariamente perché non sono gli studi tipici della nostra fondazione protagonisti di questa scoperta. Qualche storico ti ha contattato per questo libro per dirti complimenti oppure per approfondire? Ha suscitato molto interesse c'è stata un'apertura generale da parte di storici professionisti quali ovviamente non sono sono un semplice appassionato di storia la fondazione ha delle competenze nel suo comitato scientifico in aree differenti rispetto a quella della storiografia e in particolare di questo periodo però appena la storia è stata individuata abbiamo immediatamente aperto allargato la collaborazione a storici di professione che in questo momento c'è un team di lavoro che sta lavorando a questo argomento Maria Grazia Nicottaviani ha avuto la bontà la gentilezza la generosità di fare la prefazione di questa piccola pubblicazione iniziale Sonia Merli che è una studiosa che ha scritto molto su un periodo medioevo in questo caso l'abbiamo portata sul primo in età moderna nei primi anni dell'età moderna stando proprio ai criteri formali ma vedo che si muove molto bene stiamo con lei e con altre persone che stanno lavorando stiamo cercando di completare questo panorama per tracciare una storia e lasciare agli atti un corredo scientifico inoppugnabile con tutte le citazioni riferimenti bibliografici e quello che una ricerca storica di qualità deve fornire al momento ci siamo limitati a renderla pubblica a divulgarla a far sapere che esiste e oggi esiste una voce su Wikipedia che dice Tadea principessa Tadea d'Asburgo e in qualche modo le abbiamo reso le abbiamo reso onore e anche forse esaudito quello che era il suo più grande desiderio bene ci siamo forse un po' dilungati sulla storia però era molto interessante però siamo all'istituto italiano design quindi parliamo di design si sta avvicinando al Salone del Mobile quindi ti chiedo non dico di fare degli spoiler totali ma qualche novità che porterete come l'Istone Giordano se ci puoi aggiornare su qualcosa si volentieri Nicola al Salone del Mobile tu sai che è sempre un grande occasione momento che vede l'Italia a Milano ma direi l'Italia protagonista al centro del mondo per tutte quelle che sono le riflessioni in termini di progettazione di interni e non solo ovviamente è un luogo anche di scambio sullo stato dell'arte dell'architettura della cultura della progettazione in genere è un appuntamento atteso è un appuntamento faticoso per tutti gli operatori per chi come noi fa industria per il mondo dell'informazione e quant'altro ci sarà vicina lo stiamo preparando e in questa occasione l'Istone Giordano sarà quest'anno protagonista di l'apertura di uno spazio molto singolare in zona molto centrale a Milano in zona San Babila tra la zona di Santa Cecilia e San Damiano apriremo uno spazio che ha una caratteristica molto singolare quella di essere uno spazio di promozione culturale in cui l'anima della fondazione Guilamo Giordano si fonde a quella più dell'azienda di L'Istone Giordano come brand di interior vivono insieme a contatto fianco a fianco quindi ci sono la presentazione dei prodotti è un luogo dove presentiamo L'Istone Giordano presenta il suo savoir faire nelle superfici in legno però sarà anche un luogo che nei prossimi mesi e anni darà un suo contributo alla vita culturale di Milano anche quando i riflettori del Salone del Mobile saranno spenti la progettazione la firma dello spazio è prestigiosa è un grande designer architetto devo dire ormai un amico della nostra azienda che ci degna veramente un'attenzione speciale Michele De Lucchi che ha realizzato per noi questo allestimento molto semplice e fatto per far emergere il luogo l'architettura dello spazio molto interessante sono a zona degli ex navigli c'è una storia alle spalle estremamente curiosa ci sono stati interventi lì di personalità come Lancia Tommaso Buzzi Gio Ponti hanno lavorato in quello spazio precedentemente e quindi un luogo in qualche modo che ha una sua sacralità e che torna ad essere un luogo di cultura lo apriremo nella settimana del Salone del Mobile e poi continuerà la sua vita durante l'anno in termini di novità di prodotto è sempre l'occasione per fare sperimentazione nel Salone la Design Week è un grande stimolo di innovazione per l'azienda del settore se non ci fosse bisognerebbe credo inventarla e ogni anno lo è sicuramente di stimolo per noi quest'anno abbiamo diverse novità ma una su tutte forse che emerge è la presentazione nella collezione Natural Genius del prodotto Perigal un nuovo pavimentazione una nuova superficie disegnata che porta la firma di Paola Lenti che ha fatto un lavoro sia sulla geometria sulla forma sulla composizione anche con un senso molto interessante anche di origine dell'idea Perigal prende nome da un matematico che fece una geniale per la sua semplicità dimostrazione del teorema di Pitagora a favore dei bambini cioè come si può spiegare a un bambino che due quadrati messi insieme ne possono fare un terzo non è così evidente Perigal lo fa in maniera geniale risolve questa problematica e Paola Lenti parte da lì per creare un pavimento che ha infinite composizioni o comunque innumerevoli composizioni quindi un tema di forma di pattern di composizione e poi mette la sua firma cifra stilistica tipica di Paola Lenti sul colore quindi è un pavimento che lavora molto sul tema della colorazione dell'estetica e introducendo anche dei colori che non sono assolutamente insomma di consuetudine per i pavimenti in legno quindi troveremo delle tonalità che riportano al mondo delle acque marine molto singolari sia sui temi del blu del verde con insomma il gusto che è riconosciuto al marchio perché è un brand Paola Lenti e a Paola Lenti come persone al suo staff che ci hanno veramente supportato in questa ricerca ci sono anche altre collaborazioni leggevo con a parte il Michele De Lucchi che appena citato c'era anche Patrice Urquiola e Daniele Lago Sì Natural Genius è una collezione ormai consolidata di Lissone Giordano nasce come idea come pensiero nel lontano 2006 e nasce in un luogo è stata tenuta a bastesimo in un tempio unico e quindi che ricordiamo sempre con grande con grande intensità che è il Solomon Guggenheim Museum New York dove nel 2006 2007 in collaborazione con Umbria Jets New York con Umbria Jets e con la regione Umbria realizzammo due eventi di commemorabili perché li sento impressi profondamente nella mia memoria e con piacere anche in quella di molti dei presenti degli ospiti che erano presenti in cui si è unito proprio attorno alle due parole chiave Natural Genius dei momenti di riflessione sull'unione tra talento naturale quindi ciò che l'uomo fa migliorando ciò che la natura ha già progettato molto molto bene beh lì parte Natural Genius come progetto culturale poi si evolve diventa collezione oggi è una collezione che effettivamente come tu dicevi ha visto cimentarsi personalità del mondo del design anche molto diversi tra loro Michele De Lucchi Matteo Nunziati Daniele Lago che appartiene a un'altra generazione con un occhio diverso con slide ma anche Patrice Urchiola che ha introdotto un tema di grande femminilità nella progettazione di pavimenti in legno con Biscuit con la quale stiamo facendo un nuovo sviluppo di un nuovo prodotto in questo momento che presenteremo dopo il salone del mobile e poi Matteo Tun figure diverse di esperienze diverse tutti con una grande passione per la materia legno che hanno portato il loro occhio il loro sguardo a interpretare in maniera diversa un tema non facile quello di un mobile hanno due dimensioni non tre quindi creano un vincolo in più al progettista progettare un pavimento in legno non è facile introdurre novità in un materiale che esiste da sempre e in una superficie piana è un tema che nella sua semplicità nasconde delle insidie e ciascuno di questi nomi secondo me l'ha affrontato molto bene e ha aperto una nuova via nell'innovazione dei pavimenti in legno sono parole che torno spesso naturalezza e genio e parliamo ora di questo documentario che è uscito su Sky Art genio e naturalezza sì è stata una cosa che ci ha fatto grande piacere il fatto che Sky Art ci abbia proposto abbia accettato l'idea al progetto di dedicare un capitolo significativo di una collana estremamente prestigiosa che sono i capolavori del disegno industriale italiano e che in cui sono stati già fotografati altri importanti brand italiani l'Italia è conosciuta nel mondo per tante cose ma sicuramente nelle voci oltre alla moda e al cibo alla cultura all'arte sicuramente figura sicuramente anche la voce design e quindi l'istone giordano è stato selezionato per essere protagonista di un profilo di un documentario che dura 25 minuti il cui titolo scelto da Sky Art è genio e naturalezza che gioca un po' su un gioco di parole in genere si dice genio e sregolatezza in questo caso genio e naturalezza sono quelle due parole chiave già citate di Natural Genius naturalezza e genialità ciò che la natura fa in maniera spontanea ma con una capacità espressiva straordinaria e poi il tocco aggiunto dell'innovazione dato dall'intelligenza del genere umano uomo o donna che sia quindi non è solo talento naturale non si può tradurre come genialità naturale o talento naturale come se quella dote innata che uno pensa che ci si nasce il bernoccolo della genialità si scopre lavorando che la genialità ha magari una predisposizione ma è il risultato di un grosso lavoro di una grossa immersione culturale di un grosso esercizio e poi soprattutto che c'è possibilità di sanare un apparente conflitto tra due parole che spesso accostate e spedono tra loro naturalezza natura naturale e artificiale due aggettivi in realtà Natural Genius li coniuga molto bene se trasformi quell'artificiale in fatto ad arte cioè naturale artificiale cozzano ma naturale e fatto ad arte fatto ad arte significa interpretato da quell'unione di cervello cuore e mani che è la base della fine del design credo che qui oggi siamo siamo di casa beh in quel caso sono due parole che invece collimano stanno sulla stessa traiettoria possono unirsi e fare cose belle insieme e Natural Genius ricerca un po' queste queste unioni per chiudere sei il nuovo presidente di Inarc e ti volevo chiedere c'è stato Guzzini adesso c'è Andrea Margheritelli sì è stata una così una proposta che mi è stata rivolta che ha in qualche modo ha fatto insomma ho colto con entusiasmo inaspettata e diciamo molto gratificato che credo che soprattutto sia un atto di attenzione importante anche alla storia alla traiettoria della dell'Istone Giordano e di tutta l'azienda la nostra è una azienda familiare quindi io non sono che uno dei protagonisti di una di una traiettoria che davanti ci sono siamo oggi alla quarta con la finta generazione appena che si è appena affacciata quindi profonda da un punto di vista storico larga in senso orizzontale oggi perché siamo diversi della famiglia molto impegnati in azienda i miei fratelli i miei cugini Dario Fernando il fratello Luca tante cugine e altri membri della famiglia quindi io faccio un pezzo di questo percorso e l'Istituto Nazionale dell'architettura insomma ha proposto di prendere la guida di un istituto che ha una tradizione straordinaria perché è stato fondato nel lontano 1959 da quella grande personalità della critica architettonica che è stato Bruno Zevi che chiamò a raccolta attorno alla cultura del progetto anime diverse non solo i progettisti architetti in senso stretto ma i designer ingegneri grafici ricordando che la cultura della progettazione è una cosa unica e poi ha voluto che venisse al tavolo venissero anche gli artefici della messa a terra della progettazione quindi costruttori quindi il mondo della produzione industriale con un'idea un po' olivettiana non dimentichiamo che l'istituto nazionale architettura ha visto tra i propri soci fondatori personalità come Gianni Agnelli come Adriano Olivetti quindi è stato ha un trascorso significativo e 21 anni sono negli ultimi 21 anni è stato guidato in maniera esemplare da Adolfo Guzzini che ha sentito la necessità di passare il testimone rimanendo comunque sempre attivo all'interno dell'istituto e questo veniva ad aprile dell'anno scorso e quindi stiamo tutti insieme con una squadra molto efficace lavorando per essere degni eredi di questa tradizione bene grazie mille Andrea ti abbiamo rubato tantissimo tempo era tutto molto interessante allora ci vediamo al salone del mobile assolutamente sì grazie Nicola e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Design grazie a tutti